Questa è la tomba del beato Luigi Boccardo, fratello del nostro fondatore, il beato Giovanni Maria Boccardo. Lui solleva dire l'amore di Dio è per sempre. Crediamoci. Eccoci qua in mezzo alle nostre anziane. Questo è un altro aspetto della nostra congregazione, un aspetto fondamentale. Il nostro beato Giovanni Maria Boccardo diceva che noi dobbiamo essere gli angeli e il sorriso della vecchiaia. Noi ci proviamo con tutto il nostro cuore e speriamo davvero di riuscirci, vero nonnine?